Si può giocare all'Orkana online? Quale piattaforma permetterà di raccogliere lore anche nell'etere? E sarà difficile il processo che vi vedrà protagonisti assieme ai vostri eroi Disney anche attraverso uno schermo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orkana online. Il TCG targato Disney da quando ha iniziato a calcare i tavoli delle fumetterie sparse in tutto il mondo ha attratto diversi appassionati amanti del lato giocato che hanno iniziato a darsi battaglia accumulando quanti più punti lore possibili atti a portarsi a casa match sempre più avvincenti. Ma oltre al piano fisico anche quello virtuale è sorto grazie ad una piattaforma gratuita che vi permetterà attraverso piccoli passaggi di utilizzare il vostro deck preferito per scalare le ranked, combattere contro amici e molto altro ancora. Nel video di oggi quindi scopriremo i vari step che dovrete affrontare e che vi porteranno dallo scaricare il client di gioco all'inchiostrare la vostra prima carta nel calamaio. Signori dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic, per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme come sarà possibile giocare all'Orkana online. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima cosa da fare sarà cercare sul motore di ricerca Pixelborn, per poi tra i risultati selezionare la prima voce. Una volta aperta la pagina web vi ritroverete davanti ad alcuni parametri. Sei per la precisione, quello che vi interesserà maggiormente sarà Client Download. Cliccando sull'opzione quindi dovrete decidere quale piattaforma utilizzare. Le soluzioni saranno diverse, anche mobile all'occorrenza. Personalmente ho scelto la versione Windows. Windows. Iniziato e concluso il download, dovrete estrarre il contenuto del file .rar in una cartella o sul desktop e concluso il processo non dovrete fare altro che cliccare sull'icona esagonale per avviare la piattaforma. Una volta aperta l'interfaccia iniziale dovrete procedere alla registrazione inserendo mail e password e fatto ciò avrete accesso alla schermata iniziale. Quindi entrati all'interno del programma troverete a sinistra quattro voci Home, Play, Collection e Shop. Ed in alto a destra una rotella che vi farà accedere alle impostazioni di gioco. Ora attraverso di essa dovrete inserire nella seconda barra bianca il link che troverete in descrizione e che potrete recuperare anche nella sezione Installation Guide sul sito. Ed una volta copiato ed incollato tale link, cliccando sul tasto Update dovrete aspettare qualche minuto per il recupero dei dati dedicati proprio all'Orcana. Una volta completato il procedimento, selezionando la voce Quit, il programma si chiuderà e vi basterà riavviarlo per avere ogni singola carta attualmente presente nel gioco a vostra completa disposizione. Quindi una volta svolto ogni passaggio non vi resterà altro da fare che costruire il deck che vorrete utilizzare in partita e potrete farlo in due modi, da zero o attraverso l'importazione delle varie liste già presenti sul web. In entrambi i casi dovrete selezionare Collection tra le voci presenti a sinistra ed una volta aperta la finestra dedicata, optare per la sezione Decks. In questo campo potrete o decidere di creare un nuovo mazzo partendo da zero attraverso il tasto New Deck, dove per l'appunto non dovrete fare altro che selezionare singolarmente le carte che vi piacerà includere all'interno della vostra lista personale utilizzando anche i diversi filtri a disposizione del giocatore, o importare un mazzo pronto cliccando su Import Deck da siti esterni come Dreamborn.ink, dove nella sezione Mazzi potrete filtrare i risultati scegliendo l'opzione Popolari da selezionare tra le voci presenti in alto a sinistra ed una volta fatto ciò non vi resterà altro da fare che cliccare su uno dei deck li presenti ed una volta aperta la finestra con ogni elemento in chiaro seguire i seguenti passaggi. Aprire il menu a tendina chiamato per l'appunto menu situato nella parte superiore sinistra rispetto alla lista, cliccare su Esporta e nella sezione destinata che si aprirà subito dopo selezionare la voce Pixelborn. In questo modo quindi potrete copiare la profile degli appunti attraverso il tasto dedicato per poi tornare sulla piattaforma ed incollare nel primo spazio denominato Deck Code String il link apposito rispettivo al mazzo, mentre nel secondo slot bianco chiamato Deck Name andrete a digitare il nome del mazzo che potrete decidere a vostro piacimento. Infine cliccando sul pulsante Import avrete la lista pronta da giocare contro altri illuminatori. Una volta costruito da zero o importato il deck, entrando nella sezione play potrete decidere di intraprendere la strada per le ranked che vi vedranno misurare con sfidanti degni di nota, testare deck per sperimentare nuove liste spacca meta e diverse altre modalità di gioco che evolveranno il vostro stile e miglioreranno le capacità che metterete in pratica match dopo match. E quindi una volta selezionata la modalità che più vi aggrederà sarete pronti a buttarvi a capofitto tra le nebbie del tempo in compagnia dei vostri eroi Disney che vi daranno una mano nel riuscire a collezionare tutti e 20 i punti lore che vi serviranno per l'ottenimento della vittoria finale. Prima di concludere ci tenevo a far presente che la guida in questione è stata pensata unicamente per darvi la possibilità di muovere i primi passi nella versione digitale del gioco, dal come scaricare il client fino ad arrivare ad inchiostrare il vostro primo ink nel calamaio. Spetterà voi quindi esplorare a fondo ogni singola possibilità che questa piattaforma vi fornirà per migliorare ancora di più la vostra esperienza ludica. Concludendo, attraverso Pixelborn avrete la possibilità di testare quanti più deck possibili e trovare quello che più si adatterà alle vostre esigenze risparmiando quindi sia tempo, evitando di giocare un deck che proprio non riuscirete a far girare che denaro, visto che attraverso questa piattaforma una volta trovato l'archetipo che farà al caso vostro potrete focalizzare gli sforzi economici per reperire tutte le carte che vi serviranno a completare la lista dei vostri desideri. E voi avete mai utilizzato la versione digitale di Lorcana? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.